Jingle Spot. www.pronosticoonline.com. Rubriche, pronostici e consigli per passare alla cassa. Una risonanza magnetica per Alessandro Matri dopo l'infortunio al polpaccio rimediato martedì mattina durante il rifiniturante Juventus. L'ex attaccante rossonero è arrivato questa mattina in Paideglia per sottoporsi gli accertamenti strumentali. Il guaio muscolare lo costringerà a saltare anche la trasferta di Genova di domenica. I controlli clinici stabiliranno i tempi di recupero. Per l'attaccante si teme lo stiramento. www.pronosticonline.com. Tutti i venerdì in esclusiva i pronostici del Mago Alberto. Inoltre, help Serie A, help Premier League, help Liga, help Bundesliga. Tutte le curiosità, le statistiche, i precedenti e i consigli dei nostri esperti, partita per partita, per passare alla cassa. Su pronosticonline.com trovate anche i consigli per il fantacalcio di Emiliano Donati. Pronosticonline.com vi ricorda che scommettere è vietato ai minori di 18 anni. Scommettete sempre responsabilmente.